Ciao amici, sono Clara. Oggi vi propongo una ricetta un po' particolare, perché oggi vi parlo di quella che è la mia cucina da sogno. E allora vi invito ad entrare nella mia cucina che ha uno spazio da sogno, ma mobili. Nella mia cucina c'è questa libreria piena di libri e poi abbiamo l'impastatrice, un piano per il lavoro, una cucina che non è integrata e poi abbiamo il resto della cucina fino ad arrivare al tavolo. Ecco, lo spazio, come potete vedere, è veramente immenso, bellissimo. Qui io accolgo tutti gli amici, i bambini, facciamo le feste, mi piace da matti. Io amo stare in mezzo alle persone, quindi vorrei una penisola nel mezzo della cucina dove poter lavorare, far di aperitivi, cucinare, far di tutto. Vorrei un colore bianco o anche rosso, perché con questa luce il rosso ci starebbe benissimo. Ecco, questa è la mia cucina da sogno. Aiutatemi a realizzarla. Ciao!